La paura per il terremoto non è ancora passata, le scosse di assestamento come quella di 24 ore fa contribuiscono a tenere alta la tensione sull'isola, ma ad Ischia c'è un altro timore concreto, quello per gli sciacalli pronti a intrufolarsi nelle abitazioni abbandonate per compiere razzie. Per limitare il pericolo sono scesi in campo i carabinieri del reggimento campagna e gli uomini della polizia di Stato che stanno pattugliando a piedi le vie più colpite al fine di scoraggiare eventuali malintenzionati. Per partecipare ai controlli sull'isola sono arrivati anche i rinforzi, altri 50 carabinieri dalla terraferma. Si battono tutte le strade e i vicoli secondari per controllare se vi si aggirino persone sospette e vengono ispezionati gli ingressi delle abitazioni per controllare se siano stati forzati. A pattugliare tra le macerie non solo militare e polizia, con loro anche i residenti preoccupati di subire oltre al danno anche la beffa di vedersi portare via i propri beni. I controlli sono scattati soprattutto in seguito al racconto ad un noto quotidiano di Alessandro Toscano, il padre dei tre bambini estratti vivi dalle macerie. Mentre Ciro, il piccolo eroe della tragedia, veniva accudito all'ospedale Rizzoli di Lacquameno insieme ai due fratellini, in attesa di essere trasferito all'ospedale Santo Bono di Napoli per ulteriori indagini specialistiche, è emerso in retroscena di una somma in contanti, pare circa 500 euro, che sarebbe sparita dai cassetti dell'abitazione crollata in località Larita, a Casa Micciola. Sull'episodio non sono ancora state presentate denunce e sarà approfondito in queste ore proprio dai carabinieri che hanno varato la poderosa operazione per scongiurare il rischio sciacallaggio.